Ciao bambini, oggi volevo raccontarvi una nuova storia, si chiama l'insalata di frutta. Siete pronti? C'era una volta in un mercatino esotico tanta bella frutta, posta in diversi cestini di vimini, era molto maestosa vedersi e aveva tutta l'aria di essere molto appetitosa. C'era chi adorava le fragole, chi amava la polpa rossa della ciliegia, chi apprezzava il colore giallo della banana, chi la pelle liscia della mela, chi faceva gara a picchiettare con la mano la buccia verde dell'anguria e a gustarne una sua fetta rosata e zuccherina. Ogni frutto poteva considerarsi orgoglioso e fiero di sé, tranne una, l'arancia. L'arancia era l'unica a essere scartata da tutti, eppure era molto bella con la sua buccia arancione, tuttavia succedeva spesso che mentre la sbucciavano, lentamente i suoi spicchi color del sole uscivano allo scoperto, insieme a della pellicina bianca, ed il suo odore forte e acre faceva storgere il naso a tutti. Pur contenendo vitamina C, nessuno voleva saperne di lei, cosa si poteva fare? Ho un'idea, disse il fruttivendolo. Raccolse tutta la sua frutta, compresa l'arancia, e cominciò a tagliarla a pezzetti in una ciotola, la gente osservò il fruttivendolo e incuriosita incominciò a guardarlo. Il fruttivendolo tagliò a metà l'arancia e cominciò a spremerla su ciò che aveva appena preparato. Venite signori, venite, disse, ho preparato per voi una cosa buona e sfiziosa, venite ad assaggiarla. Subito si accalcarono in massa e scoprirono che quell'intruglio misto era davvero molto gustoso, tanto da avergli posto il nome di insalata di frutta. Ma no, replicò il fruttivendolo ridendo, io un nome migliore, la chiameremo Macedonia. Vi è piaciuta la storia? Vi aspetto per il prossimo episodio. Ciao bambini!